3 Meglio un manager o i figli nei posti di comando di un'azienda? Quale deve essere il rapporto di equilibrio tra le due componenti? È il dilemma che è stato affrontato venerdì 13 aprile durante il convegno organizzato dall'Associazione Centro Studi Economia e Territorio a Palazzo San Michele a Fano. Al centro del dibattito c'è stata un'attenta analisi per comprendere i cambiamenti e gli sviluppi del modello marchigiano dell'impresa che cambia con le strategie che le aziende devono adottare insieme ai dirigenti per essere sempre più competitivi mantenendo però fede all'identità familiare. Le statistiche dicono che solamente il 25% delle aziende in Italia riesce a gestire il primo passaggio quindi dalla prima alla seconda generazione solamente il 15% riesce a gestire il passaggio dalla seconda alla terza e qui abbiamo un tema fondamentale. Perché c'è questa difficoltà? Beh sicuramente c'è questa difficoltà soprattutto per un aspetto pieno di psicologico ma soprattutto pieno anche di un aspetto legato all'aspetto numerico cioè il 68% delle aziende italiane hanno un capitano di impresa con più di 60 anni bene il 69% delle aziende italiane con più di 50 dipendenti è a conduzione familiare quindi il tema tra aziende e passaggio generazionale per il nostro paese è molto sentito. L'incontro è stato un'occasione per riflettere sul tema con la testimonianza di esperti del settore come Silvia Paci della Profil Glass Spa, Vincenzo Borchia dell'area manager della Fineco Bank Tonino Pencarelli docente dell'Università Urbino Carlo Bo e il consigliere regionale Mirko Carloni. Il modello marchigiano della piccola e media impresa che ha differenziato il nostro territorio rispetto al resto d'Italia è sicuramente stato per molti anni un'occasione di crescita, di forza anche perché intorno alla famiglia nasceva l'impresa, il campannone di fianco alla casa il modello che Arnaldo Foa chiamava il modello marchigiano di crescita senza fratture in realtà però questo modello piccolo e bello funzionava in un mondo dove la crescita era forte e anche l'inflazione aveva un suo perché ma è diventato un modello di difficoltà e ha subito ancora di più la crisi proprio quando la competizione si è fatta globale quando il modello piccolo dove mancavano magari anche alcune competenze anche alcune capacità di andare sui mercati le ha diciamo così punite come attività.